Io sono l'elettronico di Niki, gli elettronici ci occupiamo di un po' della gestione della componentistica elettronica della nostra moto, analizzare un po' i dati che acquizziamo durante il funzionamento della moto e poi cercare di trovare la messa a punto ottima per il nostro pilota di riferimento, nel mio caso Niki. Ducati mi ha colpito molto il fatto che ci sono tanti ragazzi in gamba, è molto difficile trovare a che fare con qualcuno con cui avreste difficoltà a lavorare, sono tutti ragazzi molto molto appassionati, veramente in gamba, quindi ricordo che mi ha colpito quello, avere un problema da risolvere e mettersi insieme a altre persone, problemi che sembravano a molto difficile e poi in qualche modo sempre si salta fuori. Sì sì, sono contento perché comunque penso che sia un po' di pubblicità per il paese che in questo momento si sta riprendendo dalla crisi del 2001, una crescita lenta ma sta crescendo, il posto non lo conosco ma ho sentito che è un bel posto un po' lontano da Buenos Aires ma lo vedremo. Grazie a tutti.